Oh carissimo Rotto Salso Maggiore Il tuo socio meraviglioso chi è? E' quello che ti porterà la vita Rotto Salso, primo anno allievi Io e te contro il mondo Ragazzi qui abbiamo l'altra coppia Sì, secondo anno Rotto Salso Maggiore C'è sempre l'emozione di una prima volta Anche se io sono già quasi 20 anni che accompagno degli allievi a Salso Maggiore E ho assistito a cose inenarrabili Però in tutti i campionati ho avuto delle soddisfazioni Partecipa anche tu a questa campagna Filma il down del tutto Sono con Mauro Gandin detto il licitatore L'ha inventato lui Rotto Salso Rotto Salso, ma non c'è ben mai Youtube in mare Rotto Salso Rotto Salso Rotto Salso No, volevamo fare 50 fotocopie della tua faccia E andare tutti a Salso così Buongiorno a tutti Buongiorno Tu sei proprio La grupida di Alessandria Tutti carichi Alessandria è pronta per partire Guardiamo il bel Antonio Con il nostro tutor Angelo, grazie Maestra, buongiorno 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 Antoneve Capo, buongiorno Eccolo qua Il socio di Lello già guerrito di prima mattina Eccola qua La nostra coppia di punta degli allievi di primo anno Io sono l'allievo modello di secondo anno Lello taglia tutto Siamo anche arricchissimi Ci sono dei motivi che non posso spiegare Vene là Sei carica Sei tesa Sei tesa Allora hai mai detto Guarda che sono tra 60 Madonna Una donna Una donna Una donna più salsa Ci sta Ci sta anche un cristiano Vogliamo metterlo Proviamo? Sì Metti tutto La donna più salsa La donna più salsa La donna più salsa Il generale a Danilo gli ha detto Ma con chi voglio giocare a salso? Lui fa con la commesa limba Il frate trappista Numero 16 Qui come il nostro Nicolello napoletano Danciato Il culo Passaggio Capita Per una parte Pensa Di un'altra parte Un'altra parte Che cosa succede? Ma se succede Ma se succede E' Il primo turno appunto lo giocheremo con le nostre compagnie di squadra Nadia Mi dico solo una cosa Leffamo un culo così Noi non siamo venuti a becchinare la squadra Appena le chiedono di allettare 16 guarda turno 14 E quelli più grandi 18 Sarà una bella guerra È tornato il clima Salsomaggiata Allora abbiamo chiuso il primo turno Sia loro sia noi Solo che loro sono secondi Noi siamo 14 anni in giro Come sta andando ragazzi? Dai Abbiamo ricplicato il risultato precedente in quanto a percentuale Ho recuperato qualche posizione Voglio farvi notare come il mio socio giochi le quadri Come gioca lui le quadri e non le gioca nessuno No ragazzi Non è andato bene Siamo andati proprio indietro perché abbiamo fatto il 51-53 Signor Mojito Adesso andiamo a prenderci l'aperitivo C'ho il Mojito C'ho io Buonasera Come sta andando il signor Mesalimba? Per adesso sta andando Squagliato dal sudore Gli ha chiesto Te lo fai un selfie Ma con tutti sti selfie diventerò cieco Abbiamo il 69% E' questa sessione Dobbiamo vedere l'accumulato Danilo e Luisa dove siete arrivati? Siamo arrivati in sette Siamo arrivati Alla grandissima Ciao 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 Aghikko 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 Siamo arrivati in secondi Dai cazzo Allora siamo qui con il signor Funfone e il signor Mesalimba Allora dai Siamo arrivati in secondi Alessandria Biggia, allievi del secondo anno sul podio Allora e allievi di primo anno Livio e Lello Come ha giocato Lello? Siamo spiegati ragazzi L'ultimo turno è andato di due Siamo passati dai Gli ultimi due board Dal 62 al 41 Vabbè dai ragazzi Domani inizia lo squadre Con le signorine inizia lo squadre Bella regà Alessandria Biggia Il mio stesso maggiore è finito il primo giorno E ci vediamo qua Paolo ma allora sta rasatura è servita qualcosa per il primo giorno? Hai visto? Adesso hai capito perché ho fatto la barba No Eh domenica lo capirai Domenica lo capirai La colla tra l'arri E allora il cretino è lui Hai rischiato un pugno sulla faccia È buono qui Ho un duro lavoro ma qualcuno deve pur farlo Buongiorno a tutti Oggi è sabato 9 maggio E siamo qui per il secondo giorno Stiamo appena andare a giocare lo squadre Stiamo facendo una grossa colazione Per mantenernci fuori Ciao 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 Buongiorno ragazzi Wow Ottimo questo tre picche che hai fatto a giocare l'invio Fa me Fa me Ha giocato a lui Ah l'ha giocato a lui Ah l'ha giocato a te Un picche Un senso Due flore Due picche Due picche Tre picche Ah vuoi te ne vuoi andare? No 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 Hai rischiato un pugno sulla faccia Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Ciao ragazzi Dai cazzo Dani Dai cazzo Salutate i finale Qui è la Senderabridge Sono le 19.30 Ho il piacere di annunciarvi che Quattro squadre su sei Sono in finale Buongiorno a tutti